un nuovo film di ridley scott ridley scott cosa ci ha fatto stavolta ci ha fatto exodus exodus un belino ma vai un uomo di coprire il male ma con una luanda tana owen lars oso ottman sono il padre josè sono il padre josè ma cosa sono i capelli ma tagliate 7000 anni fa cos'è quella pezzinatura sottodio sai che c'è qualcosa di sbagliato lo hai sempre percepito i tuoi genitori non ti hanno mai detto la verità sottodio fuoco abbiamo il pestilenso dai l'anno della tua nascita ci fu una profezia che sarebbe nato un condottiero per liberarci sono batmanare musè si sottodio dopo più di quattrocento anni di schiavitù la situazione è molto puttana che palle quattrocento anni di schiavitù ma non mi lascerai ma lui che è bruce weinbachman con la barba figo vediamo chi è più bravo a tutti si vediamo chi ha amato prima si hai un po di pacconi vieni qui vieni qui il mandarino se questo è per umiliarmi si ti dico che non è così dai sconfiggeremo l'apocalisse puttana che c'ho le basse c'ho una barba conosco un tipo puttana che basse come leite? rane? puttana che c'ho tuttissimo la sopravvivenza dell'egitto lo comprende il mar le piaghe puttana le piaghe c'ho le basse io si io sono un dio dai seguitemi e sarete liberi puttana puttana ricattureremo quattrocentomila schiavitù si no non ricattureremo ma secca le dai crancaci in bocca le stana per il surf preparatevi ah puttana domenica è tutto in chiesa domenica è tutto in chiesa siii dio 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 slappe slappe a panella spedio